Nella sua tappa versana Vincenzo De Luca si è fermato anche nel comitato elettorale dell'Udc di Aversa, un momento importante per i centristi dopo la fase iniziale travagliata. Non c'è stata nessuna fase iniziale travagliata, noi abbiamo maturato una consapevolezza e una decisione che è maturata nel corso di questi anni tra di noi, per cui abbiamo scelto tra un alleato che ci voleva mortificare e un avversario che ci rispettava. Questo è il succo della nostra scelta, intendo per questo che abbiamo recuperato la nostra storia, i nostri valori, l'orgoglio di partito, ma soprattutto abbiamo recuperato una prospettiva politica, che è la prospettiva popolare che dal primo giugno costruiremo con pezzi della società che concorreranno con noi a rivolgerci soprattutto a quel 40% dell'elettorato che oggi è deluso dalla politica, ma nel quale c'è tutto. Ci sono le famiglie che non ce la fanno più, ci sono gli anziani che non riescono a curarci, ci sono i giovani che rischiano di perdere la speranza, ci sono gli imprenditori seri e coraggiosi che vogliono rimanere sul territorio ma non trovano una politica che li accompagna, li accudisce e li protegge. Questo è il succo della nostra scelta, ma c'è di più. Questa elezione segnerà un punto di svolta, nel senso che c'è uno scontro tra due modi di concepire la politica, ma due modi di concepire la società e la vita. Da un lato noi abbiamo i soliti apparati che si sono autoalimentati nel corso di questi anni, nei quali c'è qualcuno che sta nella politica, qualcuno che sta dietro la politica. Sono apparati che appartengono in modo trasversale a un mondo che ha vinto sempre, qualsiasi schieramento vincesse. Noi dobbiamo rompere questo schema, io credo che vincendo De Luca finisce un mondo, finisce un sistema fatto di potentati, di clientelismi, di consulenze, di familismi, di privilegi. Un mondo che costruisce non il consenso, ma costruisce le clientele, dove ci sta qualcuno che comanda e molti che devono eseguire. Noi vogliamo invece costruire un mondo dove tutti possiamo partecipare. Io credo che con De Luca, che è espressione del popolo, finisce questo mondo. Finalmente qualcuno va a lavorare e il popolo si riappropria del protagonismo di una proposta. Questo è il senso dell'impegno dell'Udc a fianco di De Luca. Noi vogliamo invece costruire un'impegno dell'Udc a fianco di De Luca.